Musica Cari telespettatori siamo di nuovo in diretta per Primo Cittadino che questa sera si occuperà del comune di Terre Roveresche Allora do subito il benvenuto al sindaco Antonio Sebastinelli, bentornato Grazie Simona, grazie a tutte e a tutti quelli che ci seguono Grazie a voi per questo momento, questo spazio di informazione per tutti i cittadini Non solo di Terre Roveresche ma diciamo oltre della provincia, forse anche oltre E anche oltre, di tutte le marche visto che siamo visibili in tutta la regione Vi ricordo i numeri di telefono di riferimento 0721 86 14 33 per intervenire e parlare direttamente con il sindaco Oppure 338 49 68 250 per mandarci dei messaggi utilizzando l'applicazione di Whatsapp Allora, tanti sindaco, i lavori in corso e i progetti Direi di partire se d'accordo con la riqualificazione del centro sportivo località Pievecannetti a Orciano Perché è un intervento molto importante che prevede anche la copertura della piscina Che era utilizzata soltanto nel periodo estivo Esatto, è un intervento importante, è un intervento che vede un contributo del Ministero Con il bando sport e periferie di 500 mila euro, fondo perduto C'è stato un momento di stop perché come tutti sappiamo c'è questo momento con il rialzo delle materie prime a costi elevatissimi Quindi di conseguenza succede che gli amministratori devono fare un po' i conti con quelli che sono i piani economici Quindi non è che possiamo sballare E quindi di conseguenza abbiamo dovuto trovare una soluzione che potesse ottemperare la copertura della piscina E chiaramente il budget a disposizione Ci siamo arrivati, abbiamo approvato prima della fine dell'anno una perizia di variante Adesso in questi giorni grazie all'ufficio tecnico faremo la gara E quindi poi partiremo e termineremo questo importante lavoro Che qualifica ancora di più quella che è l'offerta sportiva del nostro comune Che cosa prevede poi il progetto? Perché c'è anche un edificio a costi ridotti? Ha previsto chiaramente la ristrutturazione, la demolizione e la ricostruzione ex novo Di tutta la parte degli spogliatoi che erano un po' vecchi Perché chiaramente risaliva a quando è stata fatta la piscina negli anni 80 E poi tutta la nuova copertura telescopica E quindi di fatto d'inverno sarà chiusa ed estate sarà aperta Quindi insomma è un qualcosa di particolare che forse anche qui vicino non c'è E' una cosa nuova, innovativa che siamo riusciti a portare avanti e a costruire Possiamo dire entro quanto potrà essere pronta? Allora adesso i tempi tecnici come dice il capitolato e quelle che sono poi le varie caratteristiche In 120 giorni la copertura dovrebbe essere realizzata e montata Però non è che mi sbilanci Adesso fra un mese o due quando i lavori sono partiti ci sbilancieremo L'idea è quella di poter utilizzare chiaramente d'estate la piscina aperta E poi l'inverno invece utilizzarla chiusa Sindaco già ha diversi messaggi per lei Buonasera Voglio fare un enogio al Sindaco per tutto quanto sta facendo Per migliorare i nostri municipi L'impegno che mette E quindi grazie da Enzo Montoro Le chiedono poi Quando verrà aggiustato il camminatoio a barchi? Il camminatoio a barchi Abbiamo appaltato i lavori l'anno scorso Quindi se tutto va bene Fine metà febbraio si parte Invece il matatoio di schieppe è vero che chiude? Il matatoio di schieppe non è vero Ci sono voci, è un circolato voci Insomma difficoltà di chi lo gestisce all'interno Io visto che siamo qua questa sera su Fano TV Rinnovo di nuovo l'invito che feci al Sindaco di Colli al Metauro Quando ancora c'era Aguzzi Adesso lo rinnovo di nuovo Anche ci ho già parlato con Pietro Briganti E anche col Sindaco di Fano Perché quel matatoio ha una situazione molto particolare Era dell'ex comunità montana e del comune di Fano Oggi è diventato di proprietà del comune di Colli al Metauro Per il 70% circa E il 30% del comune di Fano Però è localizzato a terre roveresche a schieppe Quindi nel mio comune Quindi i cittadini molte volte quando ci sono delle problematiche Si rivolgono a me Quindi aveva fatto la proposta di poter entrare anche noi A far parte della proprietà dell'immobile Perché quell'immobile comunque è strategico Per la posizione, per le dimensioni Perché è forse l'unico mattatoio che si può chiamare mattatoio Qui vicino nella zona E quella che è l'idea però è di poter investire Per dare una, insomma, una ristrutturare Perché comunque sia ne ha necessità Quindi non chiuderà Perché so che il Sindaco si è adoperato molto anche in questo senso Speriamo invece di potenziare E di regalare a tanti allevatori E a tanti operatori della nostra vallata Un po' di serenità Come chiaramente a chi lo gestisce Sindaco, ne parlavamo giusto prima di andare in diretta Il bio di gestore a Barchi Che cosa da dirci Sindaco Noi nella nostra vallata non lo vogliamo Ma noi l'abbiamo già detto L'abbiamo già detto L'abbiamo già scritto Abbiamo approvato due delibere in consiglio comunale Quindi gli atti parlano chiari Mercoledì abbiamo L'ennesima conferenza dei servizi Dove appunto noi ribadiremo la nostra posizione Porteremo all'attenzione anche altre problematiche che ci sono Perché chiaramente nella conferenza dei servizi Va sviscerato tutto Quindi tutti gli aspetti tecnici Ma anche gli aspetti di ricaduta sul territorio E comunque siccome la conferenza dei servizi Anche questo aspetto Anche quello che può essere una dimensione sovracomunale E poi dopo sul fatto dei biodigestori Che c'è questo dibattito Stasera c'era la conferenza La commissione di garanzia Pardom nel comune di Fano Quindi di nuovo si parla di questa cosa Forse nel passato Il comune dove ci troviamo adesso Doveva prendersi le sue responsabilità Perché il vecchio piano regionale dei rifiuti Che tuttora è scritto Tuttora vigente E prevedeva che l'impianto fosse realizzato Nell'area di competenza del comune di Fano Da ASET Cosa che poi non è successa E comunque sia A mio avviso e ringrazio anche Lo faccio adesso pubblicamente Perché ci ha dato un'idea Luigi Scoppellitti Che è un consigliere del comune di Fano Ci ha messo in contatto con Renato Bernes Che è l'amministratore di una società In Friuli Venezia Giulia Dove appunto stanno sviluppando Un piccolo impianto di 400 tonnellate Per la comunità Perché l'idea è quella Venirebbe far sì che ogni comunità Sia autosufficiente Quella è l'unica strada Perché i grandi impianti non servono a nessuno Poi è anche difficile realizzarli E se noi vediamo La raccolta differenziata Lo smaltimento dei rifiuti Come tanti altri beni pubblici Come l'acqua in particolar modo Come un servizio Che non deve generare un utile Per chi lo gestisce Allora forse Se arriviamo a quello stadio lì Cambia la prospettiva E si possono realizzare delle cose importanti Perché poi gli esempi in tutta Italia ci sono dappertutto E questo è un esempio che c'è Lui ci ha messo in contatto con Bernes Adesso noi stiamo ragionando Perché il prossimo mese Scade il bando del PNRR Per l'impiantistica E il comune di Terra Roveresca Siccome la gestisce Parteciperà Perché noi vogliamo essere ancora più Autosufficienti Ecco la raccolta differenziata Appunto come va La raccolta differenziata Sta andando molto bene Ma questo non è Grazie ai cittadini Che la fanno E la fanno nel modo migliore Grazie all'intuizione Che abbiamo avuto Fin dal 2011 Di partire col porta a porta spinto Quindi noi raccogliamo Per ogni abitazione Tutte le frazioni Fra un po' I cittadini si vedranno Arrivare il saldo della Tari Calcolato con il metodo nuovo Quindi la tarifazione puntuale Con la CO2 E quindi poi Chi è stato virtuoso Si troverà delle Insomma Delle agevolazioni Quindi pagherà Chiaramente di meno Perché l'idea E l'obiettivo Della tariffa puntuale È quello di far pagare Effettivamente in base A quanto si produce Con un sistema che funziona E altri sistemi Nel passato Usati anche per la tarifazione puntuale Non tengono conto Di tutto quello Che può essere Il comportamento virtuoso Del cittadino Cosa che invece Con la CO2 Si può fare Un'idea che sarebbe Da prendere ad esempio Anche per tanti altri comuni Andiamo avanti con i messaggi Buonasera Sindaco Mi spiega Quella strettoia Tra Orciano e Mondavio Non ha senso Non ha senso Ha senso perché Quella è un restringimento E dovrebbe servire Per rallentare Perché altrimenti Le soluzioni Che uno può Approntare Sono O ci mette un vigile Tutti i giorni Cosa che un po' fatica 24 ore su 24 Tenerlo lì Mettere un autovelox Fisso come fanno Non sempre è possibile Perché la strada Deve essere autorizzata Quindi come succede In tanti altri posti Vengono sviluppate Queste tipologie Perché così Uno teoricamente Dovrebbe rallentare Dice il dare precedenza Quindi prima passa uno Poi passa l'altro La strettoia è fatta in maniera tale Che possono passare Anche i mezzi Che da noi sono tipici Quindi I grossi trattori Che possono passare Le metitrebbe Possono passare Non hanno problematiche E quindi questa era l'idea Perché se no Altrimenti Come succede Prima appunto Sentivo qualche comune Si lamentano Perché fanno cassa Con le multe Se no L'altra alternativa È un autovelox Fisso tutti i giorni Nella sera e la mattina Dopo però L'autovelox Ha come Nota negativa Che prende anche Quello che torna da lavorare Che al posto di fare i 50 Fa i 70 E quindi si becca la multa Anche lui Perché è così Perché poi dopo L'autovelox Per dirlo Perché qualche volta Forse uno fa confusione L'autovelox Non è che decide il sindaco Quanto trarlo C'è un limite Più la tolleranza Mi sembra che sia il 10% Oltre quella Non si va Altri messaggi Buonasera È prevista per il futuro Una rotatoria all'incrocio Davanti al centro medico Carlo Amudio Allora lì C'è un progetto Ci stiamo lavorando Nel futuro Potrebbe nascere Poi dopo Dipende anche Come sarà il futuro Però anche lì Fa parte di una serie Di progettualità Che abbiamo sviluppato Su tutto l'asse Della SP 16 E sulla SP Bondaviese Poi che va L'SP 5 Verso Barchi E quindi sì Anche lì Ci stiamo lavorando Su altri Altri contesti Siamo un po' più avanti Quella di Piagge Che in parte È stata finanziata Dalla regione Con un contributo Ad hoc Di 100.000 euro E su quell'altra Che abbiamo presentato Qualche giorno fa Poi la troverete ancora Presto Anche sui nostri canali Così chi vuole Può dare dei suggerimenti Perché la rotatoria Oltre ad avere L'obiettivo Di migliorare La circolazione E dare sicurezza E anche un motivo Di decoro Se fatta bene Certo Perché poi lì Ci sarà anche un discorso Di rifacimento Di marciapiedi Esatto Quella di Orciano Specialmente in quel punto Prevede anche Tutto il rifacimento Dei marciapiedi Verso la zona Del Monte delle Stelle E verso qua La parte che torna Verso il municipio In quel caso È progettata Quella provincia Ma No In quel caso È progettata Dal comune Di Terra Roveresche Chiaramente Con l'autorizzazione Della provincia Quindi sono solo autorizzazioni E finanziata interamente E penso che sarà così Forse La provincia Riusciremo anche A prendere qualche cosa Qualche piccola risorsa Qualche piccolo contributo Ma in particolar modo Sarà finanziata Da soldi nostri Poi Oggi i bandi Ce ne sono tanti Quindi si riesce A intercettare Tante risorse Se uno Ha i progetti pronti Verranno cambiati I giochi nel parchetto A barchi Che sono rotti e vecchi Dipende quale Perché i parchetti A barchi Ce ne abbiamo diversi Uno L'abbiamo completamente Ristrutturato Quello che c'è Qua verso Via Giacomo Leopardi Poi c'è da ristrutturare In parte Quello dell'asilo E poi forse Ce n'è un altro Che rimane Verso la fine Del castello Anche sia Quello forse sì Poi altri Li abbiamo già ristrutturati Quindi un po' più precisi Ero più preciso anche io Ok ci sta scrivendo Quindi attendiamo intanto Davanti alla scuola Davanti alla scuola Sì sì Quelli Sarà in previsione Di cambiare Metterli nuovi In via Raffaneto Volete costruire un impianto Di gestore Enerobico Avete già lasciato Una discarica Non chiusa Sempre in via Raffaneto Evitate quindi Le chiedono Di danneggiare Ulteriormente L'area La discarica che c'è E quella Ce l'abbiamo No l'abbiamo trovata Quella c'era Autorizzata nel passato Adesso la gestiamo E quella Ha un costo Non indifferente Che oggi grava Su tutte le Bollette dei cittadini E quello Troveremo Cercheremo di trovare Delle soluzioni Ma comunque Un costo Che avremo ancora Per tanto tempo Per l'altra questione Dicevo Ho già risposto prima Perché noi ci siamo Già pronunciati In un certo modo E anche tutto quello Che noi facciamo Come politica Anche ambientale Di raccolta La videorifferenziata Va in una direzione Nettamente diversa Prima di andare avanti Con i messaggi Invece Diamo qualche informazione Inutile per la collettività E partiamo dal mese di febbraio Perché Saranno attivi Questi sportelli Polifunzionali Esatto Questo fa parte Di questo progetto Di quello Che è il mandato Amministrativo Di questa amministrazione Che era quello Di lasciare Su ogni municipio Dei servizi Adesso a Barchi Da qualche giorno È attivo L'ufficio Della polizia locale Quindi con Con i vigili Che hanno Oltre ad avere gli uffici Al piano superiore Hanno anche A piano terra Quindi facilmente Accessibili da tutti Un ufficio specifico E poi Quello che aveva annunciato Tra l'altro Nell'ultima Diretta Esatto Nell'altra diretta Quindi forse Seremo ci ascolta A parte Chi lo sa L'avrà già visto E poi Invece dal primo Di febbraio Partiranno Gli sportelli Polifunzionali Chiaramente Nel municipio Di Barchi Di San Giorgio E di Piaggi Perché poi La maggior parte Dei servizi Specialmente Quelli più Dove il cittadino Ha necessità Sono già localizzati Alcuni A Dorciano E quindi Lo sportello Avrà La funzione Di dare Le informazioni E soprattutto Di gestire Quelle pratiche Quelle semplici Quelle abbastanza Quotidiane Quelle tipiche Anche di quella Che è la nostra realtà Dove il cittadino Può andare La fa direttamente Lo sportello Polifunzionale Anche se poi La pratica Verrà gestita Da un ufficio Che si trova O a Piaggi O a Orciano O a San Giorgio O quant'altro Quindi per capirci La solita Autorizzazione Che tante persone Fanno Per poter fare La potatura Delle siepi Delle piante Prima veniva Se andava a Piaggia Eccetera Adesso lo sportello Polifunzionale Si recca Il cittadino La fa lì Oppure Ma questo Chiaramente Per i più giovani Ma poi piano piano Ormai è una realtà Non è più Fantascienza Si potrà fare Questa pratica Semplice Anche online Direttamente Perché verrà attivato Poi Io penso anche qui Il primo di febbraio Una parte Sul nostro sito Che si chiama Sportello Online Comunale Online E lì Uno può scegliere Tutte le varie Pratiche Che può fare Direttamente Dal computer Perché oggi Lo ho detto anche Nella diretta Di sabato Mattina Oltre a speed Abbiamo un altro strumento Adesso non tutti ancora Hanno la carta Entità Elettronica Ma il 90% Delle persone Ce l'hanno Con quella tesserina Lì La carta Entità Insieme al pin Che abbiamo ricevuto In due parti Quella può fungere Da identità Digitale Quindi con quella Uno può accedere A tutti i servizi Quindi Non serve fare lo speed Chi ha la carta Entità elettronica Basta quella Quindi con quella Accede a tutti i servizi Compresa anche i nostri E dal primo marzo Partiranno anche Tutti i servizi Scolastici Online Quindi il cittadino Non farà Non verrà più Né a scuò Né al comune A fare la domanda Ma la può fare Direttamente dal computer O dal cellulare E la stessa cosa Anche per quello Che riguarda La situazione scolastica Trasporto scolastico E mense Quindi i pagamenti Può fare tutto online Che qui cerchiamo Di accelerare Il più possibile Perché ormai È la realtà Certo Così com'è il servizio Su Whatsapp Il servizio su Whatsapp È attivo da tempo Adesso è stato Diciamo Messo nei canali Istituzionali Quindi c'è anche quello Come succede dappertutto Adesso questa Non è una novità Ormai Diciamo che la consuetudine Certo Invece il Polo 06 Polo 06 Ormai la procedura È partita Lì Anche qui La primavera Poi ci porterà All'inizio dei lavori Beh questa è un'opera Importantissima È un'opera Tesa Da tempo Perché serve Una struttura Di questa Di questa portata Per i nostri bambini Primavera Quindi anche asfalti Quello ormai È un Un fiore all'occhiello Di questa amministrazione Un punto fermo Quando arriva La bella stagione Quello se possiamo Anche poco prima di primavera Se il tempo lo permette Sì Quello va fatta Perché è necessaria Una manutenzione costante Puntuale Di tutte le strade Certo Andiamo avanti con i messaggi Allora Sindaco I limiti di velocità Vengono per tutti Anche per chi Per chi va a spasso E per chi va a lavorare Giustamente Quello che dicevamo Certo Non prima Siamo una famiglia Di terre rogeresche Municipio Piagge Via Palazzo Quando verrà installata L'illuminazione In questa via C'è stato promesso Da tanto tempo Ma ancora siamo Nel buio Era stato promesso Anche da chi c'era prima Questo è vero Ma noi nel progetto L'abbiamo messo Aspettiamo I corpi illuminanti Che se tutto va bene Non ci sono problematiche Per Fine febbraio Dovrebbe arrivare Poi li installiamo Probabilmente a breve Da qui a 15 giorni Queste famiglie Vedranno anche Già spuntare i pali E poi dopo Metteremo sopra il tutto Sì perché Buona parte del materiale Già in magazzino Però Oggi le consegne Sono così Molto dilatate Molto dilatate In qualsiasi campo Per qualsiasi cosa Quindi Anche Materiale Che abbiamo ordinato Anche in anticipo Arriva con Ritardi enormi E comunque Lavorate continuamente Sull'illuminazione pubblica Noi siamo sempre Anche stamattina L'elettricista Stava lavorando Per sostituire Mano a mano I corpi illuminanti Sì un lavoro Che va avanti Di routine Certo Il semaforo Il semaforo a piagge È così indispensabile? Il semaforo a piagge Aiuta Qualche volta Potrebbe anche Sembrare Superfluo Qualche volta Qualcuno Anche passa Con il rosso Quindi adesso Non lo so Se potrebbe essere Un'idea Quella di installare È un po' Troppo forte Il famoso vista red Che se passi Con il rosso Ti fa la mu Perché capita Anche questo Però aiuta Nella strettoia Sicuramente sì Chi l'ha installato Insomma Chi l'ha progettato L'ha progettato Con questa ottica Poi non sempre Tutto funziona Nel meglio Tutte le ciambele Vengono con il buco Però Invece Il centro diurno Per anziani Anche questo È un servizio In più Questo è un servizio In più E qui Non posso che Ringraziare La cooperativa Articolo 32 E la fondazione Articolo 32 Perché poi Loro gestiranno Tutto il servizio E la struttura La parrocchia Di San Maurizio In San Bartolo Col parroco Don Mirco Ambrosini Perché comunque Si è reso disponibile A mettere a disposizione Questa struttura La casa Don Remo Bianchi Che è stata fatta Con l'impegno Di tante persone Tante donazioni Tante persone Di San Bartolo Che comunque Si sono impegnati Hanno lasciato Anche parte Dei propri averi Per vedere Questa casa Ristrutturata E quindi È opportuno Che funzioni Quindi L'idea Va in questa direzione E quindi Ringrazio anche I tanti cittadini Di San Bartolo Che comunque sia Sono stati Sopra questa questione Quindi hanno Aiutato Ad andare Verso questa direzione Tutti e tre Quindi il comune La cooperativa La fondazione E la parrocchia Quindi quando ci si mette insieme Buona parte della comunità Si riescono a fare Delle belle iniziative Sindaco Ci fermiamo Per qualche istante In pubblicità E poi torniamo a parlare Del lago Dell'ex fornace E di tanto altro Abbiamo tante piazze Abbiamo tanto A tra poco Siamo di nuovo in diretta Con il primo cittadino Antonio Sebastianelli Partiamo da questo progetto Meraviglia Di che cosa si tratta Sindaco Progetto Meraviglia È un progetto Che abbiamo Già un paio d'anni Forse che è stato preparato Come studio di fattibilità Ed è appunto Nel cassetto Pronto per Essere inserito In quei bandi Che stanno uscendo Che escono in continuazione È un progetto Che prende E abbraccia Tutto il centro storico Del comune di Barchi Perché l'idea È di creare Un museo Anche diffuso Un po' sulla scorta Particolare Di quello che è Il museo del Bali Però con Delle attività dentro Che sono Chiaramente diverse Da quelle Del museo del Bali E quindi questa è l'idea Meraviglia Perché appunto È una meraviglia Come una meraviglia Il centro storico Del comune di Barchi E visto che siamo a Barchi Noi in questi giorni Stiamo cercando Di integrare Perché dovremo riuscire Spero ad avere Anche dei finanziamenti Per risistemare Ristrutturare Quello che è Tutto il pavimento In azione in selciato Del centro storico Di Barchi E una parte Del selciato Del centro storico Di Piagge Perché appunto L'idea è di renderlo Sempre più bello E poi Stiamo progettando In continuazione Perché? Perché adesso Ci sono due misure Sulle quali Parteciperemo Tutte e due Una è la misurazione L'obiettivo è ambizioso Perché ce n'è una Per regione Sono 20 milioni di euro Sarà difficile Che arrivino a terra Rovereschi Questo lo dico Però bisogna sempre Pensare in alto Anche perché c'è Quel famoso adagio contadino A calare viene sempre in tempo Quindi si può fare Ecco Quindi dicevo Questa idea Che coinvolgerà Tutto il centro storico E non solo Anche parte di strutture Che sono fuori Dal municipio di Barchi Perché L'idea è di creare Un qualcosa Che non è solo Legato al museo Ma anche legato Alle attività All'artigianato E quant'altro Per rivitalizzare Quello che è il buono E anche proprio Un polo attrattivo No? Sì Perché l'idea è È già attrattivo di suo Con la città ideale Filippo Terzi Eccetera Dobbiamo cercare Di renderla Ancora più attrattiva Le chiedono Che fine farà Il castello di Montebello Il castello di Montebello Stiamo aspettando Adesso io I prossimi giorni Proverò a sentire Delegata la vendita Perché c'era stata Un'offerta Da una società di Roma Un'offerta Che non era Proprio consona Quello che era il bando Quindi è stato Demandato al giudice Ordinario Del tribunale di Pesaro Decidere se accettare O meno questa offerta Doveva pronunciarsi L'anno scorso Poi l'ha rinviato Il 20 di gennaio Non so se o meno Ha rinviato la decisione Dopodiché In base a quello Che decide Ci possono essere Due strade O viene assegnata A questa società E quindi parte Il diritto di prelazione Che ha il comune La sopraintendenza Oppure Viene rifatta Una nuova asta Ex novo Perché anche lì L'intenzione È di prenderlo Il palazzo Punto Perché quella È una delle residenze Dopo Urbino C'era Non me ne voglia nessuno Ma dopo il palazzo Ducale di Urbino C'era il palazzo Ducale della Rovere Di Montebello Dove ha soggiornato La vine della Rovere Eh sì A proposito di rinvii Diceva prima La fibra Le dicono È un anno Che aspettiamo Si rimanda Si rimanda sempre Di mesi La fibra Purtroppo Come succede Anche in altri comuni Ieri mi sembra Sul giornale C'era lo sfogo Dell'assessore Di San Costanzo Questo è il problema Orciano È in parte Partita È ancora Sugli altri tre municipi Barchi Orciano E piagge Siamo ancora Non siamo alla fine Dalle informazioni Che ho io Ma vanno sempre prese Quel bilancino Dovrebbe essere Collaudabile Per Hanno detto Per la fine di febbraio Magari fosse Per la fine di marzo Faremo i salti Mortali In avanti Un messaggio un po' lungo Però Vorrei leggerglielo Dunque Vorrei chiedere al sindaco Se a conoscenza del fatto Che gli uffici Della pubblica amministrazione Possono effettuare Gratuitamente Riconoscimento Dell'identità personale Per consentire Ai gestori dell'identità digitale Il rilascio dello speed Uno strumento Che oggi È essenziale Per poter accedere A numerosi servizi online Dato che Attualmente L'ufficio Della pubblica amministrazione Più vicino Che effettua Tale riconoscimento Gratuito È il comune di Pesaro E che invece I gestori privati Dell'identità digitale Effettuano Il riconoscimento Solo dietro pagamento Si può pensare Sindaco Di portare Negli uffici Di terre roveresche Un punto di riconoscimento Dell'identità Ci si può pensare Adesso io accolgo Questo suggerimento Non conosco bene Tutte le sfaccettature Ma domani ci informiamo Si può fare Perché è un servizio Da dare In più Al cittadino Questo è vero E comunque Ricordo sempre Che abbiamo La nostra carta Entità elettronica Anche quella Ci aiuta Per tante cose Però Questo è un suggerimento Che accolgo volentieri E vediamo come fare Insomma Per attivare Anche questo servizio Da un suggerimento A una richiesta Ci scrive Una famiglia Di Montepiano Colombara 6 Per mettere Un lampione In una stradina Che finisce In una casa Però insomma Ci sono macchine Dicono che vanno Avanti e indietro Senza motivo Quindi un po' Di preoccupazione Se può essere Andiamo a vedere Via Montepiano Colombara 6 Esattamente Rupoli Andiamo a controllare Poi vediamo Quello che si può fare Ritorniamo un attimo A parlare Del semaforo di piaggio Perché le dicono In realtà basterebbe Ridargli l'intelligenza Che gli avete tolto E ancora Vorrei chiedere Chi prenderà in gestione Il campo da tennis Di San Giorgio Che è stato appena ristrutturato Questa è una domanda Che non posso rispondere Perché comunque sia Prima di fare quello Dovremmo fare un avviso E quindi Non è che posso dire Oggi chi lo prenderà È vero che Quello è un campo Da tennis Ristrutturato da poco Sicuramente È all'interno Di un centro sportivo Dove c'è solo Il campo da calcio E una pista Propriamente aperta a tutti Quindi è abbastanza limitato Non è il centro sportivo Di Orciano Che ha tante altre attività Però comunque sia Un avviso Lo faremo Al 90% Quindi oggi Non posso dire Chi lo prenderà E aveva annunciato Anche delle colonnine Per la ricarica Dei vincoli elettrici Vero? Le stanno installando Sono iniziati oggi I lavori Avremo tre colonnine Una a Piaggia Una a Orciano E una a San Giorgio Attivate grazie alla collaborazione Al protocollo intesa Con la società B-Charge E poi invece Ne avremo una Che installeremo noi Come comune A Barchi E quindi avremo Sui quattro municipi Quattro colonnine Quindi una bella Insomma una bella spinta in avanti Siccome ci chiedono novità Per il Polo 06 Vi ricordo sempre Siccome ne abbiamo parlato prima Di poter riguardare La nostra diretta Poi sui canali social Facebook e Youtube Così che poi potete recuperare Tutto quello che ha annunciato prima E tutto pianificato Per la primavera Ecco Invece per l'ex fornace Anche lì Proseguono spediti I lavori per la remunzione Delle macerie Esatto Quindi insomma il titolare della ditta Ha dato Lì fortunatamente sì Tante vicissitudini particolari Comunque adesso La pulizia Di quelle che sono le macerie La demolizione Sta andando avanti speditamente Anche oggi lavoravano Quindi ecco Fra un po' Installeremo anche l'ultima parte La ringhiera che mancava Di messa in sicurezza del percorso Quindi abbiamo quasi concluso Perché poi abbiamo Altri piccoli interventini da fare Per sistemare Una illuminazione particolare Quindi ci sia ormai Qualche miglioria Qualche miglioria Perché noi cerchiamo sempre di migliorare La parte a monte è finita Il camminamento Di tutto il marciapiede che collega E quindi è un'opera anche quella importante Come altre opere Ma è una vita che si è parlato sempre del marciapiede Del marciapiede del marciapiede È arrivato chiaramente Con i tempi Non è che la bacchetta magica Anche perché Cinque anni finiscono fra poco Cinque anni Abbiamo fatto tanti lavori Tante attività Poi Non tutto perché alcune cose Che erano previste Ancora non le abbiamo attivate Altre cose che non erano previste Sono state realizzate Poi faremo anche un resoconto A breve Che troverete Poi altre attività Che vorremmo fare Sperando che il covid Ce lo permetta Perché dobbiamo presentare Il libro da grasso Il murales Che ha fatto a Cerbara Di 110 metri Uno scherzetto Che ha fatto questo artista Insomma Molto bello Sicuro ecco Questo qua Lo vedete nelle immagini Dobbiamo presentare Il piano comunale Di protezione civile A tutti i cittadini E quindi ecco Dobbiamo anche presentare Appunto Queste migliorie Fatte sul nostro sito Per agevolare Anche le persone da casa Quindi del lavoro Si è fatto E poi Vogliamo anche presentare Il prossimo bilancio Di previsione Che porteremo In approvazione Io penso Per la metà Il 20 di febbraio Ecco E poi Credo che lei speri Di poter continuare Anche a presentare Progetti Perché ricordiamo Si candiderà E certo Noi ci candideremo La nostra squadra Che rimarrà quella Sì Ci saranno degli innesti Eccetera Perché Queste le dinamiche E poi dopo Se i cittadini Ci riconfermano La fiducia Sennò ci sarà Qualcun altro Che porterà avanti I suoi progetti Che noi Tanti ne abbiamo Messo in cantiere Come Parlavamo prima Ci abbiamo Adesso presto Troverete I rendering Sui nostri canali La piazza La piazza San Giorgio Davanti Il municipio Di San Giorgio È un'opera Che si aspettava E il marciapiede Al sacramento Il marciapiede Al sacramento È già appaltato Anche qui A primavera La ditta riprenderà Perché è stato appaltato Con il marciapiede Che abbiamo già realizzato Manca l'illuminazione Tra San Giorgio e Piagge Qui adesso A primavera Il materiale È già arrivato Al capannone Per fare la pavimentazione Quindi Lì appena si può Si riparte Anche qui Faccio un ringraziamento Ai tanti uffici Del comune In particolare L'ufficio tecnico Adesso ahimè A breve Il nostro tecnico Andrà in pensione Il nostro responsabile Il geometra Aprile Perché ha raggiunto Anche lui La tanto sperata pensione Però ecco In questi cinque anni Anche grazie Alla collaborazione Dell'ufficio ragioneria Degli altri uffici In tutti i settori Siamo riusciti A portare avanti Tanti 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 progetti Sindaco Abarchi Manca un locale Per i ragazzi E tanto che lo chiediamo Esatto Manca un locale Nel passato C'era la sala Polivalente La sala Due Palme Pardon Di fianco al municipio Del comune Adesso l'idea Noi abbiamo questo progetto Che prima Dicevo così Tra le righe Vicino al progetto Meraviglia Che vedrà Creare un polo Perché non è solo Il locale Perché se dentro Il locale Non ci mettiamo I contenuti Diventa solo Una stanza Che ci vanno I ragazzi Per qualche giorno E poi finisce lì Dove c'era La sede Della ex scuola Della scuola elementare Lì stiamo Ragionando Insieme a Dei ragazzi Del territorio Per poter attivare Un centro In cui i ragazzi Vanno lì E possono anche Fare attività particolari Non solo il canto Non solo la musica Ma anche Quello che dicevo prima Lavori legati Al nostro artigianato Quindi ecco Perché Sì la stanza serve Ma serve anche qualcosa dentro Se no È inutile Certo Abbiamo una foto regia Se non mi sbaglio Dell'ipogeo Anche questo è un luogo Meraviglioso Che continua ad essere Aperto Sì sì Aperto In questo momento Chiaramente con le limitazioni È tutto più rallentato Però È gestito adesso Da un po' di tempo Dalla proloco di Piaggia Ringrazio Presidentessa Morena Malerba Alessandra Carnaroli Santini Alessandro Che gestiscono In maniera egregia C'è stato Un aumento importante Anche di quelle Che possono essere Le visite Per quello che è il momento Ecco Quindi anche la promozione Perché poi La proloco Insieme anche alle altre proloco Non gestiscono Solo queste strutture Ma fanno anche Una serie di attività Che aiutano A mantenere viva La comunità In cui viviamo E anche ad aiutare A portare Persone da fuori Perché l'intente è quello Proloco è per il luogo Certo Siamo in chiusura Sindaco Però vorrei avere Aggiornamenti sul lago Oh Questa è una foto Questa è una foto D'Archidio Come si suol dire Il lago Bergamo Esatto Proprio Il lago Bergamo E qui abbiamo già iniziato Quelli che sono Tutta la parte Dei rilievi Del progetto Perché L'idea Verso marzo Di cominciare Le prime attività Marzo-aprile Di pulitura Perché poi dopo L'idea è ripristinare Questo bacino E siamo riusciti Grazie a questa collaborazione Col consorzio di Bonifica Perché è stata Recettiva in questo senso A poter prendere Abbiamo firmato Già l'atto dal notaio La proprietà In diritto di superficie Per 99 anni Più 99 Quindi per 200 anni Circa Un po' di tempo Ci sarà Io non ci sarò più Quella volta Però chissà Può darsi Mai dire mai Mai dire mai Perché tutto può succedere Però ecco Questo importante Che diventerà un polo Una riserva idrica Per l'emergenza E soprattutto Un polo turistico Attrattivo Importantissimo Nel passato Venivano Non da Del Danemark Anche da tutte le parti D'Italia Al lago Bergamo Perché era un lago Di sette ettari Quindi non era piccolino E quindi ecco L'idea È di ripristinare Questo bacino Che è stato chiuso Per Vicende particolari Nell'84-85 Però il passato È passato Adesso noi dobbiamo Occuparci del presente E cercare di disegnare Anche un po' Il futuro Che vogliamo Perché c'è chi Ci ha presi in giro Quando parlavamo Dell'Unione Roveresca Prima E poi di Terra Roveresca E 2030 Ma chi amministra Deve avere Una visione un po' lunga Se no Altrimenti Già forse Anche 20-30 Cominci a essere corso Almeno al 2050 Però è così Sì Intanto speriamo Di riaverla presso Nei nostri studi Per annunciare i progetti A breve termine Altri Altri se possibile Grazie per la Grazie a voi Per la possibilità E grazie a tutti E tutte Grazie anche Alla nostra regia Cristiana Guerra E Riccardo Sora Chiedo scusa Per tutti gli altri messaggi Che stanno arrivando Speriamo di poterle Porre queste domande La prossima volta Grazie ancora E buona serata A tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti